Buonasera, buonasera brava gente, faccio un'eccezione a questa questi giorni che mi sono dedicato un po' al riposo e a dei controlli necessari, però venendo a pregare qui a Pompei, davanti alla Madonna, non potevo non portarvi nella preghiera. L'uomo nel rivolgersi a Dio non ha che una forza sola, la preghiera. Con questa affermazione vogliamo entrare insieme nel santuario mariano per eccellenza della nostra Italia e guardando Maria ascoltiamo le parole che Gesù rivolge a noi ogni giorno. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, avete anche inteso che fu detto agli antichi, non giurerai il falso ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti, ma io vi dico non giurate affatto per il cielo perché è il trono di Dio, né per la terra perché è lo sgabbello dei suoi piedi, né per Gerusalemme perché è la città del grande re. non giurare neppure per la tua testa perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Se sia invece il vostro parlare, sì sì, no no, il di più viene dal maligno. Brava gente, il Signore ci invita ad essere chiari, sì sì, no no, il di più viene dal maligno. Il Signore desidera da noi davvero una vita limpida, una parola limpida, una bocca che parli e esprima ciò che c'è nel cuore e nel cuore siamo chiamati a nutrire solo e a vivere e a custodire solo l'amore. Brava gente, chiediamo a Maria la grazia di essere persone limpide come lei, persone che sanno dire sì al bene e no al male. diceva San Francesco, signore, signora santa povertà, il Signore ti salvi con tua sorella la santa umiltà, poiché la santa umiltà... grazie a tutti Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, Amen. Santa Vergine di Pompei, prega per noi, Santa Vergine del Rosario, prega per noi.